C'era una domanda nel gruppo, questa persona che deve fare il colloquio in Svizzera per una banca. Ovviamente, in bocca al lupo, complimenti per aver ottenuto il colloquio. La domanda è, no, come prepararsi. Tecnicamente, ragazzi, è lo stesso per prepararsi a tutti quanti i colloqui. Una delle cose su cui io punto sempre è attenzione al come vi preparate per il colloquio. Allora, la cosa fondamentale è dovete fare i compiti. Cioè, se voi avete un'azienda che sta investendo tempo e risorse per selezionarvi, dovete dedicare giorni a studiare quell'azienda. Dovete sapere tutto dell'azienda. Chi sono, dove fatturano, quali sono i mercati, cosa è successo nelle news, come stanno andando le azioni, in che cosa stanno investendo, quali sono i challenge, quali sono i loro rapporti, i report, dove parlano del loro commitment ambientale, la loro diversificazione, tutto. Perché quando proprio c'è l'impatto, sai chi siamo? Sì, certo lo so, bla bla, poi magari ditemi voi se c'è qualcos'altro che devo sapere. Cioè, gente, l'ho vista gente, arrivare ai colloqui con Ah no, sì, so che fate profilati, ma spiegatemi meglio. Cioè, sei già fuori automaticamente, no? Poi ci sono i due settori su cui vi dovete preparare maggiormente, sono le domande standard e lo storytelling. Perché non dico domande standard e domande non standard? Perché le domande standard è quel gruppo di cinque domande mediamente, che al 90% vi verranno fatte. Perché dovremmo scegliere te, perché stai facendo l'application, come sei arrivato qui, perché hai fatto certe scelte, a destra e a sinistra. E su queste vi dovete preparare molto molto bene, perché qualunque cosa voi direte al colloquio, deve far parte di una storia molto precisa che finisce in quel momento. Quando parlo di storytelling, invece, parlo del dovete prepararvi a tutto il resto, proprio perché non potete sapere quali sono le altre 80 domande che possono farvi, perché lasciamo stare la parte tecnica. Cioè, se sto parlando di sono un programmatore, sono un disegnatore di interruttori, di sequenze di interruttori, chiaro che quello è una cosa specifica, devo sapere, conoscere la materia, mi verrà chiesto di dimensionare, di fare degli esempi, e là sono competenze verticali tecniche per le quali ovviamente non posso aiutarvi. Ma quando parliamo di tutte le altre domande non standard, o vi arriva la domanda, no? Se avete queste cinque domande standard nella mappa, o vi arriva la domanda qui e iniziate a pensarci, ah boh, aspetta, fammi pensare che va anche bene, ma la cosa migliore è aver fatto un'analisi così dettagliata della vostra storia professionale, quello che io chiamo il vostro storytelling, no? Quello che è il aver fatto tutta l'analisi delle vostre competenze, delle vostre capacità, delle vostre ambizioni, della vostra strategia e tutto, per cui avete così chiaro il contesto della vostra carriera, delle vostre aspirazioni, del vostro punto di partenza e punto d'arrivo da qui a N più due posizioni, che se vi capita la domanda in uno di questi cinque pallini standard, ci siamo perché mi sono preparato. Ma se capita fuori, la risposta sarà altrettanto naturale. Perché? Perché ho fatto chiarezza al massimo livello su tutto il resto. Quindi ovunque cada l'altra domanda, potrò rispondere perché se mi chiedono qualcosa di vari scenari o tutto, me li sono chiariti a monte. E questo è il bello di fare il lavoro precedente, no? Io dico sempre, se voi pensate che cercare lavoro sia pulitura del curriculum e lo mando, questo non è il canale per voi, il mio videocorso non è quello per voi, le mie consulenze non possono aiutarvi, ci saranno sicuramente altre persone che vi dicono dammi 100 euro, ti sistemo il CV e mandalo. Quello è un modo terribile di approcciare il mercato del lavoro o comunque la vostra carriera. A monte va tutta questa analisi. Quando ho chiarito quello, ho il copione del film e quindi poi è soltanto un fatto di girare le scene e gestire determinate cose, determinate interazioni. Ma devo avere chiaro tutto quel lavoro a monte. Tant'è vero che la preparazione del curriculum è uno degli ultimi passaggi che si fa quando ci si prepara per un cambio carriera, una ricerca di lavoro. Prima devo fare tutta quella parte a monte di analisi, chiarezza sui pilastri, capacità, competenze, aspirazioni, strategie e tutto. Solo dopo posso entrare in dettaglio con il questa è la mia tattica, quindi questa è la mia strategia, questa è la mia tattica e solo alla fine lo strumento è funzionale alla tattica. Quindi una volta che ho capito questo, il tipo di aziende, il tipo di mercato, il tipo di ruoli, il tipo di quello che voglio e quello che non voglio, quando ho tutto questo chiaro, allora il curriculum è semplicemente pettinare le informazioni e chiarire il messaggio che trasmettiamo con quel foglio avvali tutta quell'analisi. Qualcuno aveva chiesto, ah ma va bene questo servizio dove ti scrivono il curriculum. Cioè peggio no del gesso sulla lavagna, sentire che qualcun altro ti scrive il curriculum. Ma no, ma no, cioè è proprio concettualmente sbagliato delegare la parte finale di un percorso senza aver tutto il percorso a monte. Chi ne sa chi vi deve scrivere il curriculum, qual è il messaggio che volete dare, qual è la vostra aspirazione, qual è il... Cioè soltanto voi potrete farlo alla fine, come nel mio caso durante le consulenze, no? Poi te l'aggiusta, aggiusta qui il messaggio, la chiarezza, devo poter leggere meglio i dati, le informazioni, qui è ridondante, qui è troppo discorsivo, ma quelli sono tecnicismi. Ma il curriculum è l'ultimo pezzo di un percorso molto molto più introspettivo, molto più articolato. La cosa fighissima è che quando l'avete fatto una volta, per molto tempo, non dico che vivete di rendita, ma quell'analisi fatta vi aiuterà tantissimo a fare i prossimi passaggi, le prossime scelte di carriera e ovviamente anche di interazioni con il mercato di lavoro, con il selezionatore e via dicendo. Allora, GD dice, come dirigente, quanto guadagni netto? Allora, io ovviamente non parlo delle mie finanze personali in numeri, io parlo di finanza personale come criteri di gestione e tutto. Quello che dico sempre è, tenete sempre a mente che ci sono varie fasce nel mondo del lavoro, spannometri che variano tantissimo da città, settore, tipologia di azienda, aziende piccole, grandi, bonus e tutto. Però io quello che dico sempre, soprattutto per chi si approccia al mondo del lavoro, dovete fare tanta analisi di quello che è il mercato del lavoro per avere un attimo un'idea di che cosa vi può aspettare. Tipicamente in Italia voi dovete considerare che chi inizia a lavorare probabilmente entra in un range 25-35, parlo di RAL, Lorda, Annua, perché è l'unico numero che dovete considerare. Anche lì attenzione perché io stavo facendo questa consulenza a questa persona che confrontava due opzioni. In una parlava del netto mensile e nell'altra della RAL e chiaramente si complica tutto, cioè voi dovete parlare sempre di RAL, totale, annua Lorda. Se andate da un selezionatore e quando si parla di stipendio chiedete qual è il netto, date un segnale di proprio approssimazione totale perché il numero è la RAL, poi il calcolatore ti dice nel tuo caso quanto è il netto perché ci sono vari fattori che lo possono influenzare un pochettino ma soprattutto mi stai dicendo proprio non hai capito perché quanto è il mensile su 12, 13, 14 mensilità, il bonus è incluso, non è incluso, i benefit, per cui parlate sempre della RAL totale. Poi dicevo, dopo questa fascia dovete considerare che magari chi ha posizioni manageriali è anche lì. Spannometrico ad altissimo livello, probabilmente si muove tra i 45 e i 60 a seconda della posizione zona, città, settore. Quando ci si muove a dirigenti probabilmente dovete considerare dai 70 in su. I vice president magari vanno a 120, 150 e via dicendo, però questi sono i range delle macro aree, cioè della serie. Non aspettatevi in Italia di entrare e fare un entry level da 70.000 euro in nessuna azienda perché proprio è fuori da ogni parametro. E su questo punto vi ricordo di non perdervi il video, poi metterò il link. Ho intervistato Andrea Fasulo. Andrea Fasulo è un ingegnere che ha fatto la specialistica in Danimarca e lì mondo completamente diverso, cioè neolaureato, discipline STEM, stipendio medio, 70.000 euro. e vi rendete conto di che mondo completamente diverso è al di fuori. E ha stupito anche me, devo dire che non mi aspettavo numeri così alti, soprattutto a fronte di considerazioni sul costo della vita abbastanza interessanti. Per cui non perdetevi quel video perché è molto interessante, lui condivide tantissime cose molto specifiche nel suo canale, è un ingegnere e quindi c'ha questo modo di fare con i numeri, schiarisce molto bene, soprattutto per chi è interessato al settore energia, lui parla dei contratti, dell'energia, lui si occupa adesso di siti eolici offshore, quindi bella esperienza. Grazie.